Un saluto a tutti i lettori di QDPnews.it, siamo nel cantiere del restauro del ponte di Ponte dell'Apriola sul Piave. Come vedete qua siamo nel tracciato della strada provvisoria che porterà il ponte mobili tipo Baili che sostituirà quello del restauro per circa 7 mesi. Come vedete la strada scenderà dall'argine della ponte Bana, proseguirà lungo questa curva, poi seguendo il tracciato con un'altra curva arriverà in prossimità del fiume. Da questo punto in poi sorgerà il ponte sul Piave, il ponte di Pomegli, il ponte mobile che si ricollegherà con due piloni fino all'altra sponda per poi risalire e ricollegarsi alla ponte Bana. Grazie a tutti.